UNHCR Ogni giorno tanti italiani scelgono di far vivere la propria generosità per sempre. Noi di UNHCR, l'Agenzia dell'ONU per i Rifugiati, lavoriamo in 134 paesi del mondo per proteggere milioni di persone, costrette a fuggire a causa di guerre e persecuzioni. Ricordare UNHCR con una donazione nel proprio testamento ci regala una prospettiva preziosa, esserci nel futuro con amore. È una scelta che possiamo fare anche noi, lasciare qualcosa per amore a chi ha lasciato tutto per forza. Per saperne di più e ricevere una guida informativa c'è un numero verde 800 821 800. Aspettiamo una tua chiamata 800 821 800. Aspettiamo una tua chiamata 800 821 800.